Nel primo turno infrasettimanale dell'anno per Lisernia arriva un punto importantissimo, secondo pareggio consecutivo. I bianco-celesti sono stati capaci di fermare la Re Canatese, che è una delle formazioni più attrezzate del campionato. Squadra da play-off, infarcita di campioni come Andrea Sivilla, Davide Borrelli e Manuel Pera. Ebbene, è un buon gioco a centrocampo da parte di entrambe le formazioni. Pochissime però le occasioni e si guarda già avanti adesso per Lisernia perché domenica c'è la trasferta di Sant'Arcangelo e bisognerà fare punti anche in quell'occasione. Ma andiamo in cronaca e vediamo cosa è successo oggi qui allo Stadio Lancellotta. Innanzitutto c'è stato l'omaggio da parte degli spettatori a Cosmo Caruso, un tifoso storico di Lisernia che è venuto a mancare nelle scorse ore. Silva ha applicato come da anticipazioni il turnover, dando subito spazio ai nuovi Maresca, Schena e Petitti, restando fedele al suo 3-5-2. Subito la Re Canatese in avanti con Andrea Sivilla che al quinto minuto ha fatto partire un tiro terminato però al lato. Borrelli poi si è fatto pericoloso al sedicesimo dopo uno scambio con Pera ma la sfera è finita in angolo. Sul rovesciamento di fronte Petitti stoppa in aria però non riesce a tirare e trovare la porta. Lisernia guadagna metri grazie a un buon lavoro a centrocampo ma è ancora la Re Canatese a farsi vedere in avanti con Sivilla che manda alto. Dopo 4 minuti Petitti dribbla la difesa, reclama un rigore per atterramento in aria ma secondo l'arbitro è tutto regolare. Sul finale di primo tempo Fazio lancia un tiro davvero pericoloso ma va sopra la traversa. Pochissime ancora di meno le occasioni nella seconda frazione di gioco che vede l'esordio assoluto del lisernino Mandolfo, centrocampista di proprietà dell'Isernia. Al 61esimo Lenoci salva i suoi dallo svantaggio spazzando via una palla insidiosa della Re Canatese. Si vede Schena, l'ultimo arrivato al 67esimo con un tiro potente dalla distanza ma la sfera anche in questo caso si spegne a lato. E poi all'87esimo Fazio dalla sinistra lancia una punizione pericolosa, l'assist però non risulta vincente. Il colpo di testa di Palmieri della Re Canatese spegne la partita che si chiude sullo 0-0. Come detto non c'è tempo di adagiarsi perché domenica c'è già un altro match. Grazie a tutti.